come è stato riconosciuto da tutti sia un posizionamento corretto, mi riferisco al posizionamento atlantico. Ho considerato un successo politico l'operazione Suzaki, ho fatto i complimenti alla Presidente, la Presidente Meloni e il Presidente Al-Sisi hanno fatto bene a chiudere quella pagina lì e credo, lo dico senza alcuna polemica, che se è sacrosanta la battaglia per la libertà che tutti insieme dobbiamo fare, è anche vero, senza entrare nelle polemiche volo di Stato o non volo di Stato, che Patrick Zaki ha un debito di riconoscenza nei confronti di Giorgia Meloni, voglio dirlo con molta franchezza, io non sono uno che fa giri di parole, critico il Governo quando c'è da criticarlo, ma l'operazione con Al-Sisi l'ha chiusa la Meloni, punto, con l'aiuto di tante persone, ma l'ha chiusa la Meloni.